Buonasera, professore Giannelli. Buonasera. Allora, oggi si parla molto di castrazione chimica per dei personaggi che hanno compiuto gravi reati sessuali. Ma cosa vuol dire esattamente? Ma dunque, per spiegarlo, devo tirar fuori questo oggetto, perché l'endocrinologo è un po' una sorta di maestro di trucchi, in qualche modo, che usa dei giochi di prestigio per manipolare gli ormoni. È un metronomo. Esattamente, è un oggetto che le è familiare, ovviamente, e ha molto a che fare con gli ormoni, perché questo è il nostro ipotalamo. Alla base del cervello pulsa con un ritmo molto preciso, un ritmo di 90-120 minuti. Questo ritmo naturalmente può cambiare, posso, come nel metronomo, renderlo più frequente, oppure posso renderlo molto più lento. E a seconda della velocità del ritmo, cambia completamente la produzione degli ormoni. Quindi, a seconda che la nostra produzione degli ormoni sia lenta e veloce, cambia il ritmo. Che cosa è meglio? Beh, c'è un ritmo che è completamente sbagliato e che si chiama, per l'appunto, questo è il gioco di prestigio, castrazione chimica. La triptorelina non è altro che un... Questo sarebbe il farmaco che viene somministrato. Che viene utilizzato per la castrazione chimica, che non è altro che un ormone che si sostituisce, non elimina il metronomo, ma rende questo metronomo, che normalmente scorre come una passacaglia di Handel, una cosa molto ritmata nel tempo e molto, come dire, con un tempo molto giusto, in un ritmo assolutamente confuso, in cui non si capisce più nulla del funzionamento del metronomo, appunto, e questo provoca una riduzione degli ormoni sessuali. Si riducono gli ormoni sessuali e sparisce il desiderio. Ma il metronomo vi si può riportare indietro? Cioè è reversibile? E questa è la cosa interessante, il fatto che è completamente reversibile, basta smettere di prendere la triptorelina e ricomincia a funzionare esattamente come prima. Quindi un trattamento totalmente reversibile. Ma allora quali sono gli usi possibili? Beh, l'ha citato il primo, quello dei sex offenders, cioè coloro che hanno compiuto dei reati sessuali, dove, attenzione, l'uso di questo farmaco non è affatto una punizione, non è affatto una pena, ma al contrario in alcune legislazioni viene utilizzato, in alcune giurisprudenze, per permettere all'imputato di affrontare in una maniera più semplice i propri impulsi sessuali così violenti. Quindi è semmai un aiuto, sbaglia chi pensa che sia per l'appunto una pena. Però bisogna che lo prenda sempre. Bisogna, il medico glielo somministra, dura a lungo nel tempo, quindi si prende in maniera ritmata. Gli altri usi sono nel carcinoma della prostata, nell'endometriosi, sono molto, molto più diffusi e sono molto presenti nella pratica clinica. C'è un altro uso molto controverso degli ormoni che bloccano l'attività sessuale e quello di utilizzarlo in certi bambini. Sì, sono i bambini che manifestano il transessualismo in epoca molto precoce in cui l'endocrinologo è autorizzato a utilizzare le linee guida internazionali, lo ammettono, Anche in Italia. Anche in Italia. L'AIFA l'ha recentemente ammesso appunto per l'uso per questi bambini che sono pochissimi e che hanno una diagnosi estremamente, come dire, attenta in cui si è capito che ritardare in maniera del tutto reversibile e senza danni, ritardare la pubertà permette di dare tempo al tempo nel senso che il bambino che cresce senza avere gli ormoni dell'altro sesso che lo spingono in una certa direzione avrà più tempo per decidere più avanti in quale direzione andare. C'è stata però una levata di scudi contro questa possibilità perché si ricchia di annullare le differenze tra i generi. No, assolutamente non succede, non esiste nessuna sostanza né questa né altre che è capace di modificare l'orientamento e l'identità di genere di una persona. Quindi è questo il motivo per cui il nostro sistema sanitario nazionale in accordo con le linee guida rimbossa questo trattamento. Grazie.